signori mi trovo nella macchina del sebastianelli purtroppo possibilità di fare scherzi non ce ne sono perché non ha un cacchio oggi nella macchina però questo per testimoniare che l'altra volta sono stato io adesso gli abbasso il sedile completamente abbasso anche quest'altro ecco fatto così che lui capirà che qualcuno si è intrufolato nella sua macchina poi mi tolgo anche questo coso che non so che cazzarola è e lo metto sul cruscotto ok poi scendo scendo la macchina l'ho aperta ma non vi ho fatto vedere come chiudo la macchina si è richiosa chiudo lo specchietto alzo questo poi alzo quest'altro chiudo quest'altro specchietto e l'opera è completa e il sebastianelli diventerà matto a capire chi è entrato come è entrato e perché mi fa sempre questi scherzi ciao